Dove sei? L'estate comincia adesso, ma tu vuoi correre, c'è la vocalista in centro Segui le luci della città, faccia gli uffici e le università Beviamoci su che qualcosa qui non funziona, siamo come Toria Paffona Paffona Siamo come Toria Paffona Bentornati al canale di Claudio Mad Crazy, sono ritornato da Napoli finalmente Comunque grazie a Savo Zeni che mi ha prestato alla videocamera Un grandissimo youtuber che mi aiuta sempre a fare le game di camera Senza di lui non sarei nessuno, andate ad iscrivervi al suo canale Link sotto in descrizione Quindi avete Crazy su numero uno, male, la facciamo una foto E adesso niente ragazzi, la intro la voglio fare veloce, ecco una scena Per noi continuate, voglio estirare un po' una cosa Vabbè tu un po' che è buon bai? Non c'è bisogno, non vogliamo niente Guarda quanto voglio metto a pigliare il step Non vogliamo niente Vabbè magari 5 euro te la pigliare Oh, io ho una famiglia che rimande nella casa Non vogliamo niente Non vogliamo niente Ho due figli e mezzo rimande nella casa Che cosa possiamo fare? Ci sono altre persone C'è cattare, devo dire già un po' lì ai miei figli Va stordo, liberami qua subito, liberami le mani, slegami Non hai ancora capito vero? Slegami va stordo, tanto Salvo Zen mi dovrà salvare Non mi lascerò mai Salvo Zen Salvo Zen salvami tu Slegami Salti Devo diventare io Claudio e Madgrassi, no tu? Non sei tu veramente, dimmi che è un sogno Poi sei venuto a salvare Salvo, grazie, andiamo Salvo Andiamo Slegami Però prima di dare la passo del canale Subito, 1, 1, 2, 3 Perfetto, andiamo Pino Madero, gli specchi è Pino? Pino, non lo so, sarà frutto della sua fantasia Siamo solo io e te adesso Ti butterò a terra Minga ma spara pietre questa pistola, mare Questo video è il degrado Senti là, non mi pressare Comunque ragazzi sono tornato da Napoli finalmente Dopo due settimane esce questo trailer E devo dire che a Napoli mi sono divertito tantissimo E ho notato che è una città bellissima Con persone calorosissime e gentilissime Ma tutto questo lo dirò nei vlog che pubblicherò nel secondo canale Probabilmente farò un video in cui dirò cosa ne penso di Napoli Quindi La smetti Passate sul secondo canale Perché usciranno dei video molto molto ignoranti E con gli ignoranti non intendo che a Napoli ci sono persone ignoranti Io voglio dire che saranno molto ignoranti Nel senso che saranno stupidi e divertenti Per quello che ho fatto io Mare, mi fai scherzo? Mare Accendo, accendo questa cosa A 200 Ragazzi vi faccio vedere qualche Instagram story Povero gabbiano Hai perduto la gommagna Non so perché sono qua con la cappadoio Non capisco Non so manco perché c'ho sto coso Boh, a volte mi confono Aia, punge sta cosa Questa spina punge In molti mi dite che sono drogato Che faccio stare senza senso Non è vero Io sono una persona normale Vi è piaciuta questa Instagram story ragazzi? Vi dovete scrivere Perché su Instagram io dico tante cose E faccio tante cose Tante storie Tante cose belle Quindi vi dovete scrivere per forza Adesso vi spiego una cosa bellissima Questa è una semplice palma catanese Basta, è finita Non devo dire più niente